se no vedete voi dai come volete va qui io vi faccio suicida eh se pigliate un'arma entrate dentro no 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 ah io proprio vado a scavare a prendere quel coso ando a prendere bene proprio vicino che tu preso via cazzo aspetta andamone mingga quasi poco c'è rimane un po' qua si crackato con il bastardo via ghiatete questa granata voglio ghiatete granata full team vai full team ok no c'è un attimo e come una cazzola chissà fatti fatti restate a concetto non è team ha nientato raga occhio lo tolto dove va guarda tu ok c'è da niente non c'è da niente non sai che stai dai operazione suotte eccolo si sono buttati non certo non certo nemmeno ma ci fallo fai il bano davanti no shit oddio sono vivo raga raga dobbiamo anticiparli prima che salgono fatti salite salite io sono in terra salto ma no cazzo sono ferito stanno a push a concetto sta entrando questo ah ma sono in massa solo sull'elicotter gli altri sono sopra uno è scena si è buttato e dietro di voi qui arrivo dice false Sto fai tanto con altri Dov'è? 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 Vedi qua 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 E dopo mi metti Allora mi metti? Ma non lo vatti bu? No Ah tu l'ho tappato Com'è? Prima è nientato vaga Le altre del proprio amico Sono morti sono morti Salgo sul tetto Allora uno scendete qua Scendete uno qua Uno su quest'altro tetto Vai da me Ok mi piglio l'altro tetto via Aspè quanti cazzo hai detto? Manca uno Ma di su voglio Eeeh E qua Ah ecco No qui dentro Vedo movimento Avanzo Un team nemico vi sta braccando occhi aperti Un team nemico vi sta braccando occhi aperti Eccolo uno fuori A terra fuori Dove mai reset No vabbè Aspetta Aspetta che ti vengo a tirare una foto Tu dovevo qua qua Vai 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 orch�� Tu ti spavano Vai È una pezza personal Si Sono stati quei Resisti Giovan, questa è la... No, questa è la porta Questa non è la taressa, capito? Tranquillo, tranquillo Io scendo a me a pigliare roba Che cazzo le fa? Mi fa che so Uno è nella casa rossa Uno è in quella... L'altro dov'è? Ok Aspetta, va Scendo A terra quello nella casa che ti ho pigliato prima Eh, dovemmo terra, è stato A terra due Sono due a terra qua dietro Dele vano a finire Si sono confermati L'ultimo è qua dentro, vado Dove va? Dentro la casa rossa Salgo sul rosso Salgo pure io sul rosso Braccato uno Si è buttato uno Mi sparano da sotto Vicino l'altro shop C'è chi? Minchia Mi attaccano Sì, sì È sotto Sì, sì È sotto vicino lo shop Raga Appendiamo lo shop Dietro il castonetto Ora è qua uno Ora è spostato dietro il furgone bianco Araccato, a terra Ok Mi piastro Ho finito Quello dietro il furgone Sì, sì Dove c'è il mio ping rosso Ok A terra C'era un altro qua L'ho atterrato Domenico No, voglio finire Avanzo Vabbè, qui Sul tetto rosso Uno Controllo qui intorno Oh, dammi una botta Ok Sperai come l'uomo Sì, ma occhio che ce n'avevi uno dietro Tipo Sì, sì Uno ha fatto Ha atterrato pure l'altro Raga Quello sotto di voi Ok Errato Uno si è buttato dietro il tetto rosso Raga Si è buttato là dietro E' sopra Sì E' sopra Ve lo fate se è salito dall'altra entrata Guarda Uno che salisse su qualche tetto più alto Per guardare Sennò se esce fuori Lo vedo io Mi sta mirando a me col cecchino Se vi fate l'altra entrata L'avete pulito praticamente Eppure questa se vi sbrigate No, problemi Semma trofi in uso Ok Uno fatto Fatto l'altro Ancora una volta non è timagnetato Sì, è timagnetato Ah, no? No Forse ho toretto È maldolo da comune Oh, dal bulo Dal bulo Comprate piastre La mia idea Questo tetto Resta valida Il contratto è annullato Gente davanti a me Full team Dio santo No Sì, li vedo Sì, li vedo Sono queste Due a terra Eh, non li vedo gli altri È qua, è qua, è qua l'altro Eccolo Tra caldo Lì Da dove t'ha finito? Do me È uno dietro a me Questo è Sì, è rimasto uno Dietro la casa gialla Qua c'è I verdi Era zero di vita Io una mezza Deve uscire Deve uscire, però calmati Con calma Ordi vuoi Dietro T'ho detto Con calma T'ho detto Vedo un movimento Vedo un movimento Restate Che nè Stile eliminato Compagno Y rientro Nell'area operativa Vale, vale Vale, vale Vi hanno colpito Vale, vale State, state, state Stati Guapì nemico In volo Ho capito Da dole Sparano Un'ha fatto Un lato è dietro Lo vedo Uno è dietro a questa siepe Craccato Al cecchino, occhio Mi piastro E senza corazze Non ce ne sono E c'è Mara, c'è Occhio Può vedersi che è entrata da qualche parte Eh, Mara è bravino Piastro Occhio che forse è qua dentro Eccolo Eccolo, l'abbiciano è qua, è qua, è qua, è qua, è qua, è qua, è qua Eccolo dietro Grandissimo Poi Poi è morto qualcuno Comprate un lobby Compratemi piastre, gentleman, ragazzi Si anche datemi i soldi domesimo ognuno è arrivato addosso al suo cazzo di c4 bene tira sto c4 di wav vabbè se non so come se non mi fai sei già buttato non mi sa raga venite di qua venite da passare ho finito le piastre ho finito le piastre vieni veni carli voi fa un c4 mi hai fatto c4 vieni i piastre voglio ma ci stiamo tutti imbunzeggiati stanno faietando con altri ragazzi stanno faietando con l'ultimo team stanno faietando dove cazzo vai adesso vuoi uscire chi 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 è a nostro favore cc io guardano la quali io guardano a riuscire capone cacchi uno cazzo e si è buttato qual è il che vi fa a destra da me? guarda in diritto chi guarda a destra? che cosa? io sono il consigli che si siano secondo me ma non sono sopra è impossibile rettini sei persone voglio 411 se sono sopra si devono buttare voglio hanno aperto l'ho aperto una porta a destra fatto questa destra si è buttato ragà un palacadute è statissimo lancio una flash eccolo e dietro il container già nei bianchi flashato no 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 Grazie a tutti.